Buonasera, buonasera a tutti amici, eccoci qui per il solito appuntamento quotidiano. Ebbene, si dovrebbe aprire veramente, se questo fosse, diciamo, un TG con quella che è la notizia della giornata. Ovviamente, quale potrebbe essere? Quella che è crollato un altro ponte in Liguria, il ponte tra la Spezia e Massa Casara. Ora, di questo non si dice quasi niente, ovviamente, perché la notizia unica è sempre quella sui contagi, sul coronavirus, e quindi il crollo del ponte passa, passa, ovviamente, passa sotto gamba, signori P. Va bene. E quindi, tornando al virus, l'andamento è sempre lo stesso, sempre in lenta ma costante diminuzione, e i ricoverati pure sono di meno, giustamente, i guariti addirittura oggi, 2099. Quindi il trend è quello là. Il discorso dove si sposta, amici miei, si sposta sul fatto del pressing di Confindustria che ormai è passato all'attacco con il governo per far ripartire questo paese. Ma il problema è che ci si scontra con il cosiddetto comitato dei virologi, degli esperti, che è ovviamente questo comitato scientifico che frena. Il freno ovviamente non potrebbe far altro che frenare, perché ovviamente qua c'è di mezzo una grossa responsabilità. Però io dico questo, certamente l'Italia non è tutto uguale, perché non possiamo far finta che la Lombardia sia, quello che è successo in Lombardia, sia come nel resto dell'Italia. Quello no. Comeppure non possiamo far finta di dire non apriamo, non apriamo, quando molte industrie si sono dotate, si stanno dotate di tutti quei sistemi, sia di distanziamento sociale, mascherine eccetera eccetera. Quindi la riapertura graduale deve essere certamente per regioni, dovrebbe essere addirittura anche per età, se vogliamo dire. Perché il dato consolidato è quello che ovviamente questi anziani sono più soggetti, magari anche per fasce di età, però non si può nemmeno pensare di attivare la produzione di un certo numero di industrie quando poi le persone fisicamente non possono uscire di casa, non possono spostarsi, non possono acquistare, perché non è che queste industrie insomma producono per i magazzini, cioè per i magazzini, per i depositi, quindi sarebbe una falsa avvertura. Quindi diciamo è tutto lì, diciamo il nocciolo della questione, che il comitato scientifico frena, frena, perché ovviamente non potrebbe fare altro. Ma ci sono dei momenti, dei momenti della vita, che la politica è chiamata a fare il suo corso, cioè fermo restando tutti i presidi sanitari e tutte le precauzioni, vezzà il momento, se non settimana prossima, tra due settimane, a fine mese, inizio maggio, ma vezzà questo problema e qualcuno si dovrà prendere, amici miei, la responsabilità di dire riavviamo, usciamo, usiamo le precauzioni, riavviamo l'industria, riavviamo anche il settore turismo, nel senso turismo interno, riavviamo, facciamo aprire le strutture piano piano, bisogna avere anche il coraggio, il coraggio di scegliere e di fare. Certamente cosa ci si aspetta, amici miei? Non ci si può aspettare che all'improvviso questo virus scompaia, da un momento all'altro. Non ci si può aspettare questo. Ogni giorno noi speriamo, chissà, quale miracolo, ma è ovvio che il declino è molto lieve. Quindi se aspettiamo che i numeri possano arrivare a zero, allora qua veramente diventa una storia infinita. Quindi ci dobbiamo vedere perché altrimenti ci si deve affidare, non so, al decorso naturale che questo virus che fa parte della famiglia dei centinaia e centinaia di coronavirus possa avere come, senza altro credo che debba avere un andamento stagionale. Quindi man mano che passi il tempo dovrebbe scomparire per poi eventualmente ricomparire nel periodo atunale e invernale quando ci sia ora che ci possa essere il vaccino. Però, vedete, rimedi subito, come dire, al 100%, sicuramente non ce ne sono. È stato fatto capire questa cosa perché i tamponi sono costosi, non si possono fare a tutte, non sono significativi perché si dice tu fai il tampone oggi e magari fra una settimana sei positivo, come pure questi test sierologici che non sono sicuri al 100%, dicono. Quindi speriamo che questo virus segua questo andamento stagionale perché noi abbiamo bisogno di recuperare una certa normalità e c'è bisogno che la politica faccia le scelte coraggiose perché non bisogna riaprire tutto, e subito sicuramente no. Però bisogna vedere bene, vedere bene perché ci sono alcune cose come quelle piccole attività dove non ci sono grossi assembramenti che si potrebbero cominciare a riaprire, pure quando toccherà, diciamo, ai ristoranti o ai bars, cercare di contingentare gli accessi, mantenere la distanza, ma è quella. Bisogna fidarsi, in poche parole, degli italiani, bisogna fidarsi di noi perché non è che possiamo essere trattati come gli scolaretti stupidi che a un certo punto dice no, noi se facciamo uscire di casa viene a finire che se ne vanno tutti quanti insieme al mare a fare le passeggiate, a fare gli assembramenti, a fare le feste all'aperto. Non è così. Anzi, anzi, le forze di polizia, carabinieri, eccetera, potrebbero, invece di controllare come fanno adesso, di controllare così che non ci sia nessuno in strada, potrebbero controllare che magari non ci siano assembramenti, che non ci siano tre, quattro persone insieme a far baldori, a stare insieme. Insomma, questo è il problema. Bisogna avere la forza, la fiducia e il coraggio di mettere in moto questo paese, tanto è vero che comunque non vogliamo fare che all'estero gli altri paesi europei ripartino prima di noi. L'Austria riparte, Mastery riparte al 50%, la Germania, già la Bundesliga, ho letto oggi, il campionato tedesco, dovrebbe ripartire il 10 di maggio, addirittura, e qua da noi non se ne parla, forse si dice a giugno, perché noi che siamo partiti, ahimè, prima con questo contagio, con questa epidemia, dobbiamo poi essere magari quelli che finiscono dopo. Dobbiamo avere il coraggio, dobbiamo avere il coraggio e come l'Austria riparte, come la Svezia non ha mai chiuso, e d'altro esempio, alla Germania che sta meditando già sulla ripresa, non è che noi possiamo stare a guardare. La responsabilità va presa. Lo so che il comitato scientifico non dirà mai questo comitato scientifico, sì, tutto a posto, potete andare, non lo dirà mai, è nel gioco delle parti, se vogliamo dire, perché il medico dice sempre, no, stai attento, perché non è colpa mia. È la politica che è chiamata ad avere coraggio, ad avere cuore, e a preservare non solo la salute fisica, ma anche la salute psichica, la salute psichica e la salute economica delle persone. Insomma, in un quadro un po' più ampio, ed è un discorso un po' più ampio, non è solo questione di stare attenti al virus, siamo attenti a tutta la società. Quindi io credo che la settimana prossima qualcosa si deve muovere, qualcosa si deve cominciare ad aprire, e anche per infondere speranza a tanta gente che ormai non ce la fa più. E questo si sta sottovalutando. Grazie, a domande per altri aggiornamenti. Ciao!